Un progetto da modificare è una visione di insieme che non c'è. Quanto contestate la Giunta Sera in merito ai lavori di riqualificazione del lungomare di Sassonia? Lari, che problema è emerso? È emerso un problema secondo me molto importante. Il 28 settembre del 2023 la Giunta approva il progetto definitivo del Waterfront di Sassonia. Questo progetto prevedeva la riqualificazione dell'Anfiteatro Rastat, già discussa ma non è questo il tema, unitamente al rifacimento di quel tratto di Viale Battisti che va da Viale Dante Alighieri a Viale Adriatico. Qui era previsto una modifica totale dell'area, la strada a doppio senso di circolazione sarebbe stata trasformata ad una sola corsia per lasciare spazio ad un'area verde di grande pregio riqualificata con zone verdi, panchine ed una illuminazione molto pertinente al luogo. Ci siamo però resi conto che quei lavori non partivano, abbiamo cominciato ad indagare, abbiamo scoperto che l'amministrazione non ha avuto l'ok, almeno così pare, dalle aziende che lavorano nella nautica. Quindi di fatto in quell'area le barche non possono transitare. Quindi è evidente che ci sarà un ritardo, è l'ennesima incompiuta dei lavori pubblici, che come waterfront si limiteranno a riqualificare esclusivamente l'anfiteatro Rastat. Nulla è dato a sapere di quando si realizzerà questa nuova opera, tenendo in considerazione che i lavori dell'ex pista de Gokart, nei quali dovrebbero passare la nuova strada delle barche, sono comunque ancora indietro. Quindi non è possibile riqualificare l'area che dicevamo prima di Viale Cesare Battisti senza aver prima riqualificato e realizzato la strada delle barche sulla pista di Gokart. È una miopia amministrativa e politica importantissima. Fano deve essere amministrata avendo una visione di insieme. Un progetto dei lavori pubblici deve tenere in considerazione chi usufruirà di quel progetto. E quindi bisogna pensarci a priori. Non ci spieghiamo come sia stato possibile approvare a settembre un progetto senza avere la sicurezza matematica che fosse idoneo al transito delle imbarcazioni. E ci verrebbe anche da pensare, come punto interrogativo, anche al transito degli eventuali carri di carnevale che occupano anche loro, hanno un ingombro molto importante.